Ieri l'intervento di Lucio Fierro che ha smentito, l'ha ritrovata unità all'interno del Partito Democratico, si discute insomma nell'area Bersani del Partito, Gerardo Adiglietti, qual è la sua analisi rispetto a questa fase che sta vivendo il Partito in provincia di Avellino? Io credo che ci sia una grande consapevolezza dell'esigenza di vivere unitariamente questa fase, noi siamo confrontati con grandi problemi, la proposta che viene fatta dice va bene ci sono delle differenze politiche ma siamo disponibili a gestire, per la verità in un certo punto di vista mi fa sorridere perché la gestione appartiene alla linea politica. Intanto il PD rischia una nuova spaccatura al Comune di Avellino sul caso ACS, proprio ieri Fierro ha parlato di una presunta incompatibilità morale dell'attuale manager e ha chiesto chiaramente al Sindaco di lasciare al Consiglio Comunale di decidere su questa questione. Su questo terreno noi siamo stati attaccati dall'allora Margherita e siamo stati oggetto di una vera e prorapresaglia in Consiglio Comunale quando sono stati dimessi in pieno Consiglio tre assessori nostri. La storia non è acqua, abbiamo una società che è inattivo, critichiamo anche quello che funziona, poi ci sono modi e comportamenti, questa è un'altra cosa e in questo il Consiglio Comunale e il Sindaco sono sovrani gli indirizzi, modelli di gestione, c'è uno statuto che è stato approvato dal Consiglio Comunale. Se poi qualcuno ha voglia di carrozzoni politici, perché questa era l'accusa che veniva fatta all'epoca IDS, e beh queste voglie oggi non sono realizzabili, se qualcuno vuole fare i consigli di amministrazione, e no, che poi si aggiunge gratuitamente, non serve, i carrozzoni non ce ne possono essere più, ci vogliono forme manageriali. C'è qualcosa da dire sul management di questa città? Beh il Consiglio Comunale lo iscrive all'ordine del giorno e ne discute, ma questo stilicidio, peraltro, invocando anche questioni morali, trattandosi di una famiglia notissima in questa città, una famiglia che ha dato anche lustro alla sinistra di questa città, ecco, insomma, mi fa un poco specie, insomma, dovremmo abbassare tutti quanti i doni, e credo che queste siano discussioni che legittimamente vanno riportate negli ambiti propri, che sono quelli istituzionali. Progress, libera la tua creatività. Progress, l'evoluzione del fai da te. Ad Avellino Est e a Caserta Sud.